Carissimo Valerio, dimmi qualcosa su questo chef nuovo che stiamo provando. È bravissimo, ci siamo confrontati su alcune cose e devo dire che veramente condividiamo la passione. Vero? In questo momento sta facendo un salame acetato con l'aceto sul letto di polenta Vero? Con poi formaggio fuso che si fonde sopra alla polentina calda, vedete? Salame doc, polentina alciugana, e il nostro yo-yo bes, il nostro bravo mai, è sempre il vostro leva ramsi che osserva e sta vuotando, ramsi, sentite lo sfrigo lì. Fantastico, fantastico. Dalla sala operativa è tutto, continuiamo la serata. Buona serata.